Perché se dovessi definire l'Aristopiù Lombardia definirei con queste parole qualità, disponibilità e affiancamento perché quando ho visto la qualità dei prodotti, loro che erano presenti mi ricordo Deborah un giorno che io ero al mare, era sabato e mi ha chiamato allora Rosi come va? Cioè proprio mi sentivo un socio l'Aristopiù era il mio socio perché io mi affiancavo a loro avevo fatto un corso qui dove si doveva dare un'impronta al bar per essere vincenti e Deborah è venuta a visitare il mio bar e mi ha detto Rosi ma tu cosa vuoi far vedere col tuo bar? Che è un bar di donne che rappresenti il mare devi decidere e vabbè ragazzi io sono riuscita a raddoppiare i miei incassi a vendere da poco il mio bar e non con gli altri a chiuderlo e sono molto felice e comunque la collaborazione con voi visto che io sto aprendo un'ardy andy brava grazie